In attesa di passi concreti verso la de-escalation in Ucraina, anche l'Unione Europea si aggiunge al coro delle voci che armano l'azione diplomatica. Di fronte agli annunci russi del ritiro delle truppe, stando alle evidenze, sul posto non corrisponderebbe un reale ritiro, per cui il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha incalzato i russi. Negli ultimi due giorni la Russia ha fatto delle aperture. Adesso sollecitiamo Mosca a compiere passi concreti e tangibili verso la de-escalation, perché questa è la condizione per un dialogo politico serio. La diplomazia non vince se dall'altro lato si ricorre alla forza. E mercoledì il Parlamento Europeo ha detto sì a un nuovo prestito di oltre un miliardo di euro destinato all'Ucraina, che vede in questo frangente la situazione economica deteriorarsi notevolmente. A tirar su il molale dei militari ucraini, la visita del Presidente Volodymyr Zelensky, che si è recato a Mario Polo a mercoledì 16 febbraio, data indicata dall'intelligence americana come il D-Day dell'attacco russo. Il timore di un'incursione militare è russa, qui è ancora vivo. Di fronte ai militari ucraini il Presidente però ha dichiarato non abbiamo paura di niente e di nessuno, siamo pronti, saremo pronti a qualsiasi attacco che avvenga domani o anche più in là. Dal lato russo si continua a sostenere che il ritiro è iniziato e che terminate le esercitazioni al confine con l'Ucraina non rimarrà un solo soldato russo.